lo aveva detto a tv sorrisi e canzoni il compleanno oggi 24 gennaio lo avrebbe passato in studio sarà il giorno delle prove generali del programma farò un piccolo rinfresco per tutti una cosa easy tranquilla michelle unziker non sapeva però che quelli che la circondano per la realizzazione di michelle impossible prossimamente su canale 5 in prime time avevano in serbo per lei allo scoccare della mezzanotte una festa a sorpresa gliela regalano per celebrare i 47 anni dopo le prove per lo show arrivano torta e brindisi con i collaboratori e gli amici vip tutti l'aspettano nella sala grande con champagne da stappare e torta su cui spegnere le candeline applaudono e gridano in coro sorpresa la showgirl è grata dell'affetto di chi la circonda la fanno sentire amata e protetta c'è anche claudio santamaria evidentemente nel cast della trasmissione le porge una bottiglia e lei la stappa poi spegne le candeline tra i presenti si vede alessia solidani hair stylist amica di ilary blasi che ora si occupa pure dei capelli di michelle c'è come sempre graziella lopedota manager di moltissimi famosi legata indissolubilmente alla unziker e più che un'amica lei è davvero una sorella ha sottolineato la svizzera al settimanale siamo insieme da 27 anni la nostra complicità su cosa si fonda sulla differenza caratteriale io volo alto faccio voli pindarici sono distratta lei è molto pragmatica e la sua concretezza mi aiuta a realizzare tutte le cose che mi vengono in mente michelle torna a casa tardissimo nelle sue storie dove condivide alcuni video della festa sorpresa racconta cucù sono le 3 del mattino ho appena finito di lavorare tra tre ore mi sveglio preparo le bimbe sole e celeste 10 e 8 anni avute dal secondo marito tommaso trussardi ndr le porto a scuola e poi mi sa che torno per un po a nanna per cui per tutti coloro che mi faranno gli auguri domani mattina sappiate che inizierò a ringraziare da mezzogiorno in poi per forza vi voglio tanto tanto bene e mi sento anche tanto voluta bene conclude mandando un bacio a tutti i suoi adorati follower